Come sarà il popo? Ma perché ci sta a fare la cosa? Che non lo sa niente? Perché 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 la prima volta, quando ci vincidessi il popo e non mi stiamo niente, non sa vuoi che era la cosa. Però che sta dicendo che aspettiamo, sono delencaste, se la ragazzi... Cioè io posso chiamare le catania e tutte le associazioni, le cose che posso dire a fare alla fine del 1600 io.